Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla statale 62 della Cisa dove ci sono rallentamenti per lavori circa 1,4 km prima di Pontremoli in direzione nord. Senso unico alternato in entrambe le direzioni tra i km 27,400 e 27,430 tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli. Sulla statale 1 Aurelia lavori in entrambe le direzioni circa 500 metri prima dell'ingresso del Maroccone. Lavori anche tra Donoratico e San Vincenzo in direzione Roma. Il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!